Da tempo un via vai di giovani in un condominio di Via Verdi a Domodossola, aveva destato preoccupazione tra i residenti che si erano rivolti ai carabinieri che, nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti una coppia. I militari hanno iniziato a monitorare la palazzina e le strade limitrofe, anche con l'aiuto delle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.